Le farmacie comunali presentano la nuova app Pharma Comunali. Scaricala anche tu! Cerca nel tuo store Pharma Comunali e scopri tutti i vantaggi. Potrai prenotare prodotti e farmaci anche con ricetta medica. Eviterai così di fare viaggi a vuoto rischiando di non trovare il prodotto che cerchi. Sarai sempre aggiornato su offerte ed iniziative. Avrai a portata di smartphone tutti gli orari e i recapiti. Potrai conoscere tutti i servizi delle nostre farmacie. Inoltre, puoi anche selezionare la tua farmacia di fiducia inserendo il codice numerico relativo o attraverso il QR code che trovi in farmacia. Pharma Comunali. La tua farmacia a portata di app.